L'approvazione del piano dell'azione per l'energia sostenibile del Paese, essendo entrati in unione degli comuni, l'unione dei comuni dell'Ettivity Ball che avevano partecipato a un bando carico per il piano d'azione per l'energia sostenibile che appunto viene chiamato sul Paese. Contestualmente abbiamo aderito anche a parte dei sindaci. Il piano è una mazzata di 50 pagine che se qualcuno può leggerlo è qua a disposizione e dirà anche all'interno degli atti del Consiglio. Sostanzialmente è un impegno per diminuire le emissioni di CO2 e rispondere a quelle che sono tutte le sollecitazioni della normativa vigente in base a anche grandi consegni che molte volte restano sulla carta e magari non vengono poi declinati nella realtà. Solo ancora un minuto vi rubo dicendovi che questo piano d'azione per l'energia sostenibile a noi non è costato nulla perché è stato interamente finanziato da un bando della Fondazione Cadiplo che prevedeva proprio il pagamento di questi piani d'azione. Siccome l'unione dei comuni dell'Ettivity Ball aveva partecipato, contestualmente l'unione dell'Ettivity Ball ha pagato anche il nostro Paese. Pass. Vi sono osservazioni favorevoli? Sette. Contrari e astenuti? Nessuno. Immediate esecutività? Favorevoli? Favorevoli? Favorevoli.